segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te ma allora guardi io non so mi viene da pensare alla stasi alla ddr no al controllo servizi segreti comuni alla sorveglianza io non so su quel molo c'ero anch'io manifestato anch'io o anzi addirittura la stasi però è un'altra cosa non facciamo però paragoni stasera le sta sparando l'apartaglia l'italia non lasciate che problema vi crea se termina il suo ragionamento ma va bene ma non si può sentire che non si può sentire perché siamo qua apposta ma siamo tutto lo studio io penso che in questo paese siamo arrivati a un degrado tale per cui chi ha manifestato allora per i diritti umani va bene perché quella era una manifestazione per i diritti umani cioè per chiedere che quei migranti che erano ostaggio sulla nave scendessero dalla nave mi faccia finire mi faccia finire allora qui c'è il problema qui c'è il problema che secondo me i magistrati sono cittadini io non credo nell'obiettività non ci credo è una parola astratta tutti noi abbiamo una posizione politica come cittadine e cittadini siamo chiamati ad avere una posizione politica che lei che la magistrata fosse lì per me non ha non non mina in nessun modo la sua il suo ruolo e la sua credibilità dipende poi come fa il magistrato dottor davino dottor davino dottor davino